Ciao, fino alla sera, fino alla notte, quasi tutto il giorno dopo, fino alle 6 del pomeriggio. Come? Come faccio? C'è il palazzo prima. Eh? C'è il palazzo prima. No, no, ma lui... No, no, ma lui... No, no, ma lui... No, no, ma lui... Figliatelo, figliatelo! Sì... No... No... Sì... ... E un potente? E' della mangiare! Arinzzaro, un... ... Guarda, guarda, guarda... Anche se le ho un'ultimo brato inzzaro... Ah... sì, era quello che stavo, dove c'era spagnolo, no, era brasiliale era un ragazzo, ma non c'è un palle? oh, ma non c'è un palle? no, ha detto l'altra no, ha detto l'altra no ha rinzato, ha rinzato cazzata me vuole, eh, me vuole c'era maledetta, è cesa con l'operito, un genio vabbè, sei un genio continua a cesare a me con terra maledetta, però a rinzato, a rinzato, a rinzato, a rinzato e ti prego il po', vaffanculo, mamma vabbè, raga, voi fate i geni tranquilli, tanto questo quanto pare, gli piacciono mi ha mollato no, non è vero mi vuole, mi vuole a rinzato dai, silvio, mollami un po', ma che ti ho fatto? scusa, scusa Diego ho anche sprecato all the guard sta malissimo basta, forse mi ha perso meno male a rinzato, a rinzato ma anche, ma cosa è una donna? ah, no, è la presenza no, è la check affronta lo scudo ah, ok mi devi fare il token, ma è una maledizione e quando, è quando praticamente costruisce una persona sta spendendo il token questa maledizione quando quella persona guarisce basta vai to, basta anche grullo mi piace il grullo un bel face camping è quello che ci voleva io mi porto via la guardia arizzarunza arizzarunza vai alla gruppa valagrum pinza rinzaru non sa rinzaru non sa rinzaru guarda come rispetta non rispetta tra gru ma chi l'ha chiamato arizzaru a boria no arizzarunza 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 aia serve una hit raga no come non a rinza 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 butta fuori è proprio scarso sto killer diversa la cosa mamma mia con solaro poverino a rinza rinza